questa è una matita che io adesso andrò a realizzare non so se vi vedrà benissimo però iniziamo così nel senso che prendi una matita è un pezzo di legno però ci sto dicendo anche un po' lavorare e dopo ho iniziato a incidere ecco la matita non è venuta finissima e ho risultato della matita già fatta una punta un po' di tonnato e non resta un po' di carino adesso non potete scrivere ragazzi con questa penna non potete scrivere però la potete tenere come leone di bellezza o potete anche decorare la punta nera o dell'argento qui potete scrivere a qualunque quello